E' sicuramente la notizia più esplosiva di carattere politico istituzionale quella che riguarda le dimissioni di Sergio Arena da direttore generale dell'Asp di Crotone. Un fulmine sicuramente a Celsereno che riapre una discussione abbastanza articolata lungo l'asse tra la cittadella e la città di Crotone che rimane dentro una cornice di questioni politiche che agitano sicuramente il centrosinistra ed il Partito Democratico in modo particolare nel territorio crotonese. Arena fa sapere di essersi dimesso per esigenze di carattere personale e non intende, almeno per il momento, rilasciare alcuna dichiarazione alla stampa. E questo non fa che infittire di sospetti e legittimi dubbi la decisione dell'ormai ex direttore generale. Nei giorni scorsi in verità vi erano stati forti richiami al Governatore Oliverio da parte dei parlamentari di 5 Stelle sulla gestione dell'Asp di Crotone in merito al non allineamento del bilancio dell'ente per il quale era stata richiesta anche l'intervento del Ministro della Salute. Ora bisognerà capire fino in fondo che cosa è successo, ma a raccontarcelo potrà dirlo soltanto Sergio Arena.